Partito dalla Svizzera con una Fiat Topolino nell'estate del 1953, assieme all'amico pittore Thierry Vernet, Bouvier intrapresa un viaggio durato anni in Oriente, facendo lunghe tappe in Sri Lanka e in Giappone. Occorsero molti mesi solo per arrivare al Kyber Pass, la frontiera tra Afghanistan e Pakistan, da cui era passato Alessandro Magno con il suo esercito in marcia verso la Valle dell'Indo. E certamente Bouvier ha una piena coscienza del ruolo del tempo nell'avventura che sta vivendo. Come un processo dell'antica alchimia, l'esperienza deve compiere il suo ciclo discendente e ascendente e il viaggio, tra i tanti suoi prodigi interiori, realizza anche questo. Che a Nicolae e a Thierry il puro trascorrere dei giorni pesi sempre di meno e la sua percezione diventi, di giorno in giorno e di chilometro in chilometro, sempre meno tragica. A 24 anni, diretta a Oriente su una Topolino che si scasserà solo dopo aver portato lui e il suo amico molto lontano da casa, Bouvier sperimenta tutti gli effetti benefici di questa rivoluzione copernicana. Per il viaggiatore, il passare del tempo non è più l'immagine della morte, la madre di tutte le malinconie. Siamo proprio sicuri che la nostra paura della morte sia il centro, il significato di tutte le cose? Per Bouvier, viaggiare significa appunto afferrare questa domanda per la coda, o meglio per l'origine, dirigendosi verso l'Oriente come ci si potrebbe dirigere verso il punto di incontro dell'arcobaleno e della terra, laddove, secondo le favole, è seppellito un tesoro. Lungo la strada, superato un certo limite, è un nuovo tempo. Si potrebbe chiamare un tempo nomade, che accoglie due amici nel suo grembo come all'interno di un'altra dimensione. Come il sogno, gli stati di ebrezza, le estasi mistiche e i deliri della febbre, anche i viaggi possono dunque trasmutare e sfaccettare la coscienza del proprio esistere, con effetti irreversibili. Sul piatto di questa bilancia, un giorno e un mese hanno lo stesso peso, educano lo sguardo con gli stessi argomenti. L'alchimia interiore del nomade non è fatta solo di trasformazione. Altrettanto decisiva è la purificazione degli elementi, l'eliminazione delle scorie. Il viaggio, dice a un certo punto Bouvier, prima ancora di arricchirla, purga la vita. E il progressivo assottigliarsi dei desideri e dei bisogni dello scrittore e del suo amico, il loro ridursi all'osso, sia nel corpo che nel carattere, è uno dei temi più avvincenti della polvere del mondo. Bouvier ci fa ossistere a un processo di meraviglioso alleggerimento della coscienza. È un istinto antico, scrive, quello che spinge l'uomo a mettere in bilico il proprio destino per poter accedere a un'intensità che lo innalzi. Grazie Elettra Mallaby e grazie nuovamente Emanuele Trevi per il privilegio di questo dialogo. È toccante vedere anche la risposta che ha avuto questo progetto di incontri dalla numerosità nel pubblico presente anche a questa serata, che vi ricordo è il secondo appuntamento di un ciclo che si articolerà in quattro iniziative, due nel primo semestre, la prima lunedì scorso con Chiara Gamberale dedicata al grembo paterno, la seconda con Emanuele Trevi e poi una terza iniziativa probabilmente in ottobre sempre con Chiara Gamberale e un ultimo appuntamento conclusivo con Massimo Gramellini e Chiara Gamberale. Ecco, come già l'altra volta vi dicevo, gli autori di questo ciclo non si sono limitati generosamente a accettare, a cogliere un invito, ma in qualche misura hanno contribuito anche all'ideazione stessa di questo progetto di incontri a partire dal titolo stesso dell'iniziativa, zone cieche e punti di luce. Emanuele Trevi oltre a essere, come tutti sapete, un eccelso scrittore è anche un grande viaggiatore e quindi averlo come interlocutore per comprendere che cosa sia un viaggio iniziatico e quale possa essere anche l'esigenza attuale in un tempo così travagliato di ripensare al tema dell'iniziazione è sicuramente un'opportunità quanto mai preziosa. Viaggi iniziatici, come tu sai Emanuele, è un testo che io ho profondamente amato sin dalla prima edizione del 2013 per Bompiani. Lo lessi dopo un altro tuo lavoro per me importantissimo che è Musica distante, che ho amato incredibilmente, e ora ci riproponi Viaggi iniziatici, percorsi, pellegrinaggi, riti e libri in una nuova edizione per UTET, un'edizione che a partire dalla prosa di viaggio di Nicolas Bouvier ci mostra quello stretto nesso che esiste tra l'iniziazione come momento di morte e rinascita, la letteratura di viaggio come pratica formativa e trasformativa e il lavoro psicologico, la psicoterapia, l'analisi come occasione di profonda ristrutturazione di sé. Il filosofo Jean Baudrillard sosteneva che con riferimento ai riti di pubertà, il bambino non iniziato non ha fatto che nascere biologicamente, non ha ancora che un padre e una madre reali. Per diventare però un essere sociale deve passare attraverso l'evento simbolico della nascita-morte-iniziatica. Ma la prima cosa che vorremmo chiederti è perché nascere non basta? Per citare un lavoro ormai classico, almeno noto agli psicoanalisti di Luigi Zoya sul rapporto tra iniziazione e tossicodipendenza. Perché secondo Georg Trakl l'anima è straniera sulla terra e la vita non basta mai a se stessa? Ecco quanto risuonano vere poi sempre le parole di Trakl, il grande poeta sa dire tutto in poche parole. E' proprio quel senso, quando pensiamo all'anima pensiamo poi a qualcosa di straniero, quindi a qualcosa che cerca un orientamento. Quello che mi colpisce moltissimo del mondo in cui viviamo, del mondo moderno in cui viviamo, e con questo ne approfitto per entrare proprio forse nel vivo di quello che è il mio libro, è il fatto che una volta noi vivevamo, la nostra civiltà era dotata di degli strumenti concettuali che probabilmente sono stati più longevi in Oriente, che erano dei modelli, delle scritture che descrivevano gli stati dell'anima. Io parlo di anima come di principio cosciente, senza nessuna connotazione particolarmente mistico o religiosa, potrei parlare di psiche, di quella costellazione di concetti. Cioè non parlo di anima in senso proprio connotato in maniera jungiana o cristiana, però noi avevamo una ricca letteratura dei resoconti che avevano dei generi, che erano a metà tra l'allegoria, il trattato mistico, il romanzo, la visione onirica. La più alta forma di questa vicenda è stata la Divina Commedia, forse li mette tutti insieme. Ed è stata un tipo di letteratura che ha accompagnato il cristianesimo anche nelle sue aspetti eretici, borderline, e che ha fornito un enorme materiale di riflessione sul funzionamento del nostro mondo interiore, anche a generazioni via via più secolarizzate. Oggi, sì, è chiaro che magari c'è qualcuno che scrive un trattato mistico, qualcuno che scrive una visione, ma è come se quel sapere si fosse trasferito alla letteratura, proprio profana, appare nei resoconti, in tutto quello che ha a che fare con una letteratura che descrive esperienze reali. È molto semplice a definire questa costellazione di guide per capire come l'anima straniera sulla terra. Il libro di viaggio ha un ruolo centrale in questa dimensione perché evidentemente il viaggio è una prospettiva metaforica comune come una volta potevano essere comuni in una certa cultura. È subito riconoscibili gli strumenti dell'allegoria, il simbolismo. Nella perdita di un simbolismo comune, insomma, che cosa è il mondo secolarizzato? È un mondo dove quello che è la religione diventa esperienza individuale. Però questo non può, le condizioni storiche non cambiano mai le aspirazioni fondamentali dell'essere umano. Quindi dove vado a cercare io una storia, per esempio, le cose che ha letto e lettra parlano di un viaggio di un giovane scrittore svizzero, Nicolas Bouvier, che parte dalla Svizzera con un suo amico, come avete sentito, con una macchina, con una piccola Fiat da Belgrado che la porta dell'Asia. È un viaggio che dura anni, che lo porterà in Sri Lanka e infine in Giappone, attraverso tutta l'India. A ogni viaggio ha dedicato un libro e sono molto affascinanti proprio perché in questo caso, così, il resoconto di viaggio racconta quello che raccontavano gli antichi mistici, cioè un'uscita da quello che si conosce, dalla cerchia della conoscenza, che comporta il fatto che diventi impossibile che quella persona che si è allontanata da casa, nella sua condizione appunto di straniera, ritorni uguale. C'è qualche cosa che è successo e quello appunto, e quindi il viaggio incarna proprio questa aspirazione della seconda nascita, cioè non può coincidere come la storia che raccontano questi libri, è la storia del fatto che non può coincidere l'identità di chi è partito con l'identità di chi ritorna. E lì è successo qualche cosa che appunto in un passato più o meno remoto era espresso attraverso una simbologia religiosa più comune, nello stesso senso etimologico di religione, cioè il fatto che i simboli siano qualcosa che riguarda tutti, il significato dei simboli è comune. Invece lo scrittore moderno, a partire dalla rottura romantica, parla per se stesso, quindi non ha altro da raccontare che come questo è accaduto a se stesso, mentre l'esperienza mistica ha dei punti di riferimento nell'esperienza di tutti gli altri cristiani. È chiaro, è riconoscibile come tale e poi si innalza a un livello di dimensione individuale. Lì questo non esiste la dimensione comune, esiste una cosa stramba come la storia che avete sentito di un ragazzo che parte, poteva tornare indietro, poteva morire per strada. Nel caso della vita umana lui entra in contatto con, in questo caso nel caso di Bouvier non entra in contatto con forme particolari di saggezza, entra a contatto con un paesaggio. In altri casi è proprio l'incontro con l'incarnazione della saggezza. Allora abbiamo, ma non solo la letteratura di viaggio per esempio, abbiamo la letteratura etnologica che diventa importantissima. Nel libro parlo di Dio d'acqua di Marcel Griolle, che è tanto un bellissimo testo letterario quanto un libro che si studia in tutte le facoltà di antropologia, di una persona appunto dotata degli strumenti scientifici. Oppure l'esplorazione può essere uno degli eroi del mio libro, il grande scopritore del passaggio al nord-ovest, Rasmussen, l'autore danese del grande viaggio in Slitta, delle esplorazioni nella cultura degli Inuit, perché lui conosce degli sciamani che vivono ancora in un sapere millenario rimasto quasi intatto. Magari il villaggio dopo no, il villaggio dopo arriva, già ci sono le... e questo tipo di esperienze appunto ha a che fare con uno schema iniziatico che se lo andiamo a vedere nelle sue... lo riduciamo all'osso, è quello che ne so che gli antropologi, gli etnologi descrivono sugli aborigeni australi, le culture più arcaiche che esistono, avevano già... che cosa era l'iniziazione? Il ragazzo o la ragazza, perché esistono in tutte e due, doveva uscire dal cerchio del villaggio, quindi dislocarsi in una specie di altrove, che è come il viaggio dei moderni, no? E poi morire, proprio... ma... 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 in moltissimi riti arcaici entravano in un buco nella terra o un... la... una specie di morte utero, di luogo dove... allora diventava, come dice Baudrillard, che citavi, certo, membro della... perché? Perché dopo sapeva le storie degli dèi, era inserito pienamente nella comunità, quindi già quelle civiltà sapevano che non basta nascere una volta, cioè non basta accettare il proprio destino per diventare se stessi. C'è bisogno... il grande storico della religione Mircea Eliade dice che questo momento di allontanamento è proprio l'uscita da quello che è il regno delle madri, cioè il fatto che il bambino è accudito da donne che orientano la sua visione del mondo, no? Lui esce da questo recinto protettivo, esce e perde quello che era... la... questi... la cosa sorprendente è questa qui, che noi andiamo a vedere un rito di iniziazione di una tribù di aborigeni australiani o aver reso conto di cose appunto ugualmente che possono essere... che possono appartenere alla letteratura etnografica sull'Amazzonia, su... sul mondo del... dall'Africa, da dovunque, e poi la ritroviamo nello scrittore moderno, troviamo uno scrittore di prosa moderna, elegantissima, Nicolas Bouvier, che è un vero letterato, disincantato, che fa parte proprio di un mondo che non ha una dimensione religiosa esplicita. Un mondo, come si dice, completamente secolarizzato. Eppure questa esigenza è la stessa. Ha cambiato solamente forma. Noi, Eliade, che era un grande storico delle religioni, l'aveva capito benissimo, cioè la religione ha ceduto molte delle sue prerogative alla letteratura. Quindi è anche drammatico per la religione perché è diventata quasi un controsenso. Religione individuale, religione che inizia e finisce con il singolo individuo. Ci sono due suggestioni, prima di dare la parola e lettra, che secondo me parlano potentemente alla disciplina psicologica. La prima è la tua idea, che tu forse hai ripreso da Mircea Eliade, correggimi se non fosse così, di un sapere, di una sapienza che, venuti a mancare delle strutture culturali che la contengono e la trasmettono, come direbbe Eliade, precipita. Si sedimenta nell'inconscio e poi riaffiora, per esempio, nella letteratura. Ma insomma i clinici sanno benissimo quanto poi il materiale onirico, i sogni, l'immaginazione documentino il riaffioramento di contenuti culturali inabissati sia a suo tempo. E la seconda suggestione, su cui tu ci illumini con questo testo, non è affatto scontata. Cioè per trasformarci, per fare appello a quella fonte inesauribile di creatività, nel senso di autorigenerazione, non basta il viaggio, non basta partire e forse non basta neanche ritornare mutati. Il vero mutamento, tu dici, avviene nel momento in cui io mi chino sul testo e metabolizzo, rielaboro il senso nel mio viaggio, diremmo in termini psicologici, oggettivandolo, rendendolo forse anche condivisibile magari a me stesso prima di tutto. Certo, non ho fatto, non ho messo come oggetto di studio, di interpretazione in questo libro niente che non sia un testo e aggiungerei un capolavoro letterario, cioè testi di altissima qualità letteraria perché la loro bellezza è la loro garanzia di durare nel tempo, di produrre immaginazione. Si parla di grandissimi scrittori che possono essere o grandissimi scrittori involontari perché Griol o Rasmussen non aspiravano. Aspiravano, Rasmussen scrive un libro per i ragazzi della scuola, il grande viaggio slitta, però è prevalente la pedagogia, l'esplorazione. Griol è un grande scienziato, lo studioso di maschere del Mali, già affermatissimo. D'altra parte ci sarebbero degli altri materiali, testimonianze di viaggi, di esplorazione, però l'importante è che queste cose, queste esperienze di me, perché per queste persone scrivere non arriva dopo, non è il registro di qualcosa che si è compreso nel momento in cui si faceva, ma fa parte dell'esperienza. La posta in gioco è che noi capiamo solo quello che ha una forma, e scrivere dà una forma a queste cose, non è possibile che quelle cose rimangano, diciamo, nell'esperienza. È in quel momento che si cristallizza un'idea che è un'idea, un microcosmo dentro il macrocosmo del mondo, di straordinario valore, anche per noi poi che lo leggiamo, ma soprattutto per queste persone che hanno scritto tutto quello che Artaud scrive tornato dal Messico, no? Tutta quella serie di articoli sui Taraumara. È straordinaria perché è lì che lui vede quello che ha visto. E dice che paradosso è vedere quello che hai visto, che cosa significa? Sembra una cosa illogica, invece chiunque abbia... Io non parlo poi di scrittura letteraria o di scrittura bella, lo stesso atto di scrivere si può definire una visione di ciò che si è visto, perché ciò che si è visto non è sufficiente a formare l'esperienza, dal punto di vista in cui la cerco io, dal punto di vista in cui cerco un'immagine comunicabile del mondo attraverso l'idea dell'iniziazione. Questi sono tutti libri in cui lo scrivere ha comportato... Per questo comunicano una bellezza, è quasi una specie di contagioso voglia quasi di metterci in cammino, poi oggi chissà dove andiamo, c'è proprio se brava, però con la test, con la mente, di accordarsi e questa cosa qui, perché è vero quello che ho detto quanto è vero che anche nella lettura, nell'immaginazione creata della lettura questo si compie. Questi libri sono libri in grado di cambiare profondamente la nostra maniera di vedere, proprio se stiamo al gioco, se immaginiamo l'avventura che ci viene raccontata mentre la leggiamo, noi partecipiamo di un processo psicologico così poderoso che lo stesso fatto di immaginarlo attraverso la lettura ci coinvolge. A Ogolalto la vita dei francesi scorre operosa e abbastanza allegra, nonostante si viva letteralmente fuori dal mondo, tra gente capace di destare ogni giorno qualche forma di meraviglia o di sconcerto. Ma in tutte le storie, perché accadano e perché vengano in seguito raccontate, c'è bisogno che si produca uno squilibrio, una rottura della continuità, un evento sorprendente capace di convocare nuove e insospettate riserve di energia. È un giorno di fine ottobre quando nell'abitazione dei francesi rompe, poco dopo l'alba, un messaggero che propone a Griol la vendita di un potente amuleto, capace di salvare dai proiettili chi lo indossa. Ma ancora più importante del messaggio è il suo omittente. Ogotemmeli è un vecchio cacciatore, cieco in seguito a un incidente. Il suo fucile gli ha scoppiato in faccia mentre mirava un porcospino. Ma Ogotemmeli sia stato un grande cacciatore. È anche quello che nella nostra lingua si può definire un sapiente. Ha ascoltato molti miti, conosce i segreti delle più riposte e intricate tradizioni e soprattutto possiede quella che potremmo definire una mente cosmologica, all'interno della quale ogni possibile oggetto e ogni possibile evento prendono il posto che gli è assegnato, sia in quanto aspetti della realtà, sia in quanto simboli, in una rete fittissima di corrispondenze e opposizioni. L'offerta dell'amuleto è un messaggio di cui Griol, dopo qualche esitazione, arriva a comprendere l'importanza. Ormai ne sa abbastanza sulla maniera di comunicare dei Dogon per arrivare rapidamente al nozzolo del significato, eliminando tutti gli involucri inutili. Non si tratta, concretamente, di nessuna compravendita di amuleti. Ogotemmeli vuole trasmettere al Nazareno quello che sa. È come se Griol avesse, a sua insaputa, terminato il percorso preliminare di un'iniziazione, rendendosi degno di accedere al grado più alto dell'insegnamento. E il miracolo effettivamente avviene. Ma il problema del cacciatore non è di quelli che si possano aggirare con la sola buona volontà. E allora come istruire un bianco? Come trasmettergli lo stesso millenario sapere ricevuto da suo nonno e poi da suo padre? Senza dubbio l'esperimento di Ogotemmeli può trovare un sostegno decisivo nell'altissima concezione che la metafisica Dogon attribuisce alla parola. La parola e l'acqua possedono la stessa natura e quasi si può dire che siano la stessa cosa. Vivificano, fertilizzano, sono entrambe suscitatrici di quell'umidità che è la più importante garanzia di durata della vita. L'apprendimento di Marcelo Uriol con Ogotemmeli nell'ambito della spedizione etnologica fra i Dogon nell'allora Sudan francese, l'attuale Mali, ci illumina su quanto in un percorso di conoscenza di sé, l'informazione di sé, la dimensione formale dell'apprendistato sia non solo accompagnata ma spesso anche subordinata alla presenza di una qualità irrazionale, informale tra docente e discente. Mi sono venuti in mente leggendo le due pagine delle riflessioni straordinarie di un autore che io e te amiamo tantissimo, Henry Corbin, il quale in alcuni testi metteva, paragonava il sistema di istruzione dell'imam nell'islam sciita con l'analisi lacaniana, una cosa assolutamente geniale. E lui ci istruiva come sia nell'analisi psicologica, secondo Lacan, sia nell'islam sciita alla domanda di verità del discente o del paziente, dell'analizzato, l'imam o l'analista rispondeva con una rottura, usa il termine brisé, spezza la domanda di senso del discente e lo pone a confronto con il vuoto, solamente nel quale lui potrà trovare la sua risposta per la sua verità. Quindi quello che vorrei chiederti, tenendo presente questa necessità dell'irrazionale, sappiamo ancora istruire l'uomo bianco che secondo Jung, come spesso causticamente scrive, come il suo stile, trova nella diseducazione dalle emozioni inglese la sua meta più alta. Vorrei darti la parola con una didascalia dell'ultima immagine con cui Jean Servier conclude questo testo fenomenale che è l'uomo e l'invisibile. C'è una fotografia di un indios dell'Angola che il grande etnologo Servier descrive così. È un indios che simula l'uomo bianco. Il suo volto è indurito dal fango, la bocca chiusa perché ha perso il verbo. Porta sul petto, al posto del cuore, il segno dell'unica luce che possa ancora concepire, quella di una lampadina elettrica. Beh, bello questa didascalia. Potente. È quello che abbiamo ascoltato prima da elettrica, esattamente una situazione paradigmatica. Cioè, un signore francese che sta partecipando a una grandissima viaggio di ricerca per l'Africa, con un'equip. D'altro nell'equip c'è anche un grande scrittore surrealista, Michel Ery, che mentre loro lavorano scrive La Frick Phantom, un libro straordinario, il controcanto di quello che racconta Griot. È un diario di viaggio, un altro viaggio iniziatico. Ma poi ho dovuto scegliere perché, come vedi, volevo fare un libro breve. Non amo moltiplicare. Però questa è una situazione straordinaria perché lui sta lì, sta lì da anni. In quel momento della spedizione vive sul massiccio delle bandi a gara. Bandi a gara, come dicono i francesi, che è un luogo ogol alto di capanne di paglia. E c'è un punto tra queste due poste, posti, no? Ogol alto e Ogol basso, no? In uno dei due vivono gli etnologi, cioè il villaggetto degli etnologi, che vivono facendo schede, quindi schedando materiali, parole, proprio quella della scuola, il metodo di lavoro, che poi è l'unico metodo di lavoro fruttuoso e sensato, serio, che esiste al mondo, proprio scientifico. Tutto questo produce una certa freddezza di conoscenze, no? Ad esempio, Griot aveva scritto già un bellissimo libro sulle maschere dei Dogon. C'è un limite che quella mattina appunto viene superato, perché il vecchio saggio, che è un vecchio cieco, come Umero, gli manda questo messaggio, dice senti un po', io ti vorrei vendere un amuleto contro i pericoli della caccia. Lui però è troppo intelligente per capire, dice, questo non è una compravè, mi vuole dire qualche cosa. Infatti nasce questo rapporto, gli dice tutto. Lui è come, è stato paragonato questo libro a qualcuno che potesse incontrare Esiodo, dirmi tutto, sapete, sapere di primo mano, con uno viaggio nel tempo, non attraverso libri, mediazioni, no? C'era tanta roba sulla metafisica dei Dogon, ma lui la sapeva, te la racconto come l'ho sentita da mio nonno. Queste condizioni, e c'hai ragione tu, contengono tutte le trasmissioni. Un lato razionale, che è quello della direzione del discorso, cioè io ti comunico tot informazioni, magari in dieci volte, perché il libro poi è raccontato in molti appuntamenti, no? Perché non ce la fa a esaurire il discorso con una... ma tutto quello che succede attorno, e qui chiaramente le persone che hanno a che fare con il lavoro dell'analisi troveranno degli spunti fertilissimi, no? Tutti quelli che i linguisti chiamano tratti sovrasegmentali, che non sono solamente l'esclamazione, ma tutto, tutto, il contesto in cui avviene questa cosa. Un cortile popolare, questo ha, come tutti gli africani, il cortile con le galline, con gli animali da cortile, e lui vuole essere ascoltato in quella situazione, vuole, se no non parla, pur essendo cieco lo capisce. E c'è un'immagine bellissima di Griolla, dice io ero così attento che se un pulcino mi si metteva qui sul collo del piede, si addormentava e rimaneva tre ore a dormire, perché io non muovevo nemmeno il piede, quello voleva dire creare una situazione. Alla fine ce l'ha fatta, perché noi, appunto, non stiamo parlando di... se tu leggi questo libro, è una cosa meravigliosa, perché tu scopi... tra l'altro la traduzione italiana di un grande filosofo, Giorgio Agamben, che è molto suggestiva anche, e tu senti proprio... non c'era... nel nostro patrimonio, non c'era quella mitologia. Poi andiamo, viaggio nel tempo, dal 47, quando abbiamo pubblicato questo libro, al 2022. Dopo dieci anni di pulizia etnica, Al-Qaeda, come sapete, più con la stupidità dei francesi a gestire la situazione, hanno sterminato i dogonni, non esiste più quella cosa lì. Quindi tu torni lì e dici, beh, ha fatto bene il vecchio Gotemmeli a un certo punto a decidersi, no? Cioè, perché... poi non si sapeva... non... cioè, rispetto ai millenni, pochi decenni che sono passati dalla spedizione alla situazione di oggi, sono niente, no? È come dire... e questo è anche un aspetto commovente della durata nel tempo di questi libri. Cioè, quando io parlo di incontri con saggi, non è il caso prima di Bouvier, ma in molti libri sono gli Inuit, gli sciamani Inuit di Rasmussen, John Neart che incontra Alcenero. Noi siamo di fronte a un incontro tra una civiltà morente, perché una civiltà orale, una civiltà... le cui cosmogonie si sono... molte moltissime Gotemmeli non hanno trovato un griolla di cui si sono fidati. Ma ti posso fare un esempio italiano, senza andare lontano. Un libro che entrerebbe benissimo tra quelli che ho... eh, Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, tanto per dire che non è che si tratta di una... quelle notizie sulla civiltà contadina, sul perfetto equilibrio di paganesimo e cattolicesimo che si è creato nel sud dell'Italia... e lui perché lo sa osservare? Perché lui è qualcuno che a un certo punto gli abitanti di Eboli... lui è stato mandato lì in confino da Torino e dai fascisti, no? Capiscono che non è un dottore di città, uno che fa parte di una vita che a loro non riguarda, no? A un certo punto... perché è un medico. Allora il medico li protegge, poi gli proibiscono di fare il medico, il podestà, e allora quelli ancora... per lui diventano ancora più taumaturgico, perché si stabiliscono dei legami di fiducia. E quelle cose noi ce le abbiamo, noi non avremmo un'idea così netta di che cosa poteva essere un paese della Lucania negli anni 30. I mondi scompaiono con le persone, i mondi orali scompaiono. E quindi queste cose qua sono tutte... anche Carlo Levi non ti parla, non ti trascrive le credenze del contadino, perché arriverebbe a un livello di generalità in cui tutte le credenze si assomigliano. Quello che rende preziose queste cose sono l'enorme valore conoscitivo attribuito a quello che sembra inutile nel resoconto scientifico, cioè le circostanze in cui avviene. Senza quelle determinate circostanze non ci sarebbe la cosmologia di Ogote e Megli, senza una persona capace di farsi dormire un pulcino sul piede, non si creerebbe quella situazione. Perché? E questo che cosa ci insegna? Che non esiste in senso astratto il sapere. Perché il sapere è qualcosa che prende forma nelle determinate situazioni in cui gli uomini se lo scambiano. E non è sostituibile. Noi viviamo tra molta... è un criterio anche per distinguere le patacche dalle cose serie, essenziali, no? Cioè quando qualcosa suona fasullo è sempre qualcosa che potrebbe essere... ecco è come se... non possiamo immaginare che un altro antropologo avrebbe raccolto le stesse informazioni. E questo credo sia importantissimo anche per gli analisti. Non esiste nulla di astratto. Anche diciamo qualcosa che in realtà ha un'apparenza oggettiva perché la cosmologia di un intero popolo ha la forma di quelle orecchie, non la forma di quella voce. E quindi è l'intuizione di questi saggi non tanto sul livello intellettuale del bianco, no? Che istruiscono, ma su qualche cosa di più indefinibile. In questi scelte, cioè è un fattore del tutto irrazionale. Per esempio, uno dei libri più alti della storia dell'umanità, della storia spirituale dell'umanità, è il libro conosciuto in Italia con una piccola imprecisione zoologica, Al cenero parla. Il libro è fatto anche un libro proprio che ha avuto un successo di massa enorme. Le persone della mia età avevano quello e si dartano come modelli di grande... ed erano ottimi modelli di consumo. Ed è un vero Vangelo, è bellissimo Al cenero. Black Hell, per questo dico che non è proprio lei la... però... Al cenero era uno sciamano che aveva combattuto accanto a Cavallo Pazzo. Aveva... era uno dei pochi indiani che aveva sconfitto il Little Bigorn, la... insomma, e quanti indiani potevano essere... che avevano vinto una battaglia di quel genere. Ed era il suo sciamano. E anche Cavallo Pazzo era un uomo che... lui dice di Cavallo pazzo che la sua forza di guerriero era quella, non era tanto che era forte sapeva come finiva la battaglia per dire il clima spirituale in cui vivevano questi onimi meravigliosi, al cenero non è che chiede Griol prende un imbecille, John Yart è veramente, se tu leggi le cose che ha scritto, però era uno con l'apis e il tacquino diventano amici lo fa diventare cattolico al cenero tanto era per fargli piacere diventa pure cattolico non aveva nessun motivo e un'ultima foto li ritrae insieme vestiti con giacche di cuoio con i cravattini stretti dei cantanti folk a un bar quindi l'aveva contagiato anche perché poi i saggi giocano con le persone quindi si era spostato verso il suo stile di vita eppure quello era il depositario forse dell'esperienza spirituale di un intero popolo che vent'anni dopo avevano finito gli americani di massacrare quindi anche lì sono cose che sono successe poi a voglia uno dice ah sì potevamo saperle tutte queste notizie con gli archeologi con non c'è bisogno di queste cose l'osservazione non è vero queste cose sono uniche irripetibili perché non sono testi sono relazioni non hanno hanno un valore supremo è chiaro che scatena mille professori mille archeologi ci avrai un'idea degli indiani d'america ma tu quella che è la fenomenologia no l'incontro tra l'oggetto e il soggetto vivo vero autentico non ce l'hai tanto è vero che non ci sono casi il più proverbiale non sappiamo cosa sappiamo leggere la fonetica della lingua degli etruschi e non sappiamo cosa volevano dire si è perso proprio il significato delle parole lì è finita cioè non c'è stato nessun vecchio etrusco che ha trovato un romano per fare una cosa del genere cioè per quante volte questo succede tantissime volte non è mai successo oppure è successo ma non c'è stato tramandato qualcuno che forse c'è anche bisogno del fatto che queste persone sappino che la loro civiltà è al tramonto ancora ancora mi vengono in mente i contadini di Carlo Levi è una inconscio necessità di confidare dei segreti all'uomo bianco perché l'uomo bianco magari è più scemo no? è molto ironico con Griollo lo chiama il Nazareno come avete sentito che è una maniera di chiamare appunto i bianchi i cristiani però insomma evidentemente c'è ci può essere stima ci può essere qualche cosa di incomprensibile però queste cose sono sono successe in questa maniera e io tendo a pensare che quello che queste sono vere iniziazioni cioè queste persone non sono più state le stesse diciamo sono tornate con qualche cosa di enorme no? perché tu hai una anche il caso di Erasmus è così perché gli sciamani i racconti degli sciamani che gli fanno vabbè poi io non vorrei essere troppo lungo nelle risposte perché a me come avete visto queste cose mi appassionano ma non vorrei infliggere tutto il libro però anche lì perché succede che questi gli sciamani inuit non amano assolutamente parlare di fatti loro della loro mitologia perché è una mitologia che gli serve a pescare le foe perché te la devo venire a dire a te che fai l'esploratore con i soldi dell'Accademia di Vienna però anche lì Rasmussen era figlio di una groenlandia era cresciuto lì sapeva cacciare come loro sapeva costruirsi un igloo sapeva farsi la godeva di stare con loro lui dice la cosa più bella del mondo è quando ti sei catturato una bella foca e te ne stai alla luce dell'olio di balena a raccontarti storie su gusti però chiaramente a un certo punto che vanno a caccia un giorno spartiscono la fame il giorno dopo perché come tutti i cacciatori ci sono giorni buoni e giorni cattivi gli raccontano e poi è un aspetto ancora più prezioso della mitologia gli raccontano l'evocazione cioè il bambino come si diventa uno sciamano allora che il bambino comincia a avere sogni strani e allora viene rimproverato cioè e poi però si sente diverso dagli altri sente delle voci probabilmente sono degli schizzoidi diremmo noi con la scienza nostra ma è del tutto insensato sovrapporre un modello medico nostro agli sciamani degli Nuit e quindi abbiamo dopo il mio libro ne è uscito uno bellissimo da Delphi che si chiama Aua un libro bellissimo perché questo Aua forse è il più straordinario che gli ha incontrati perché lui gli dice gli dimostra anche che è proprio un cammino di dolore quello dello sciamano quando noi sprechiamo queste parole sciamanico a sé capito così a cavolo proprio allenatori di calcio sciamano di tutto quello ti dice è bruttissimo essere uno sciamano perché è un vincolo con gli spiriti magari vuole essere uguale a tutti gli altri cacciatori e il periodo passato da soli perché ve l'ho detto no c'è un periodo l'iniziazione comporta questo abbandono del villaggio sono cose tutte queste cose si hanno Erasmus anche non è scemo te le racconta non è che lui prende e poi scrive la vita degli sciamani ti racconta i giorni che ci mette a vincere la diffidenza poi loro sanno dice ma come mai questo straniero usa la nostra lingua come mai sa cacciare così bene come mai gli piace stare con noi a un certo punto una sera all'improvviso da che raccontano barzellette cose oscenità e già gli dà un documento spirituale se leggete è un libretto di 90 pagine si chiama Awa perché lo stregone si chiama Awa è indimenticabile è come se ti leggi un racconto di Flaubert perché capisci che cos'è una persona che è diversa dalle altre quello che la prerogativa del santo del pazzo del mistico del poeta quella cosa lì e te la dice con un'intensità lui doveva fare quello poi i suoi viaggi nel mondo dei morti come comincia a viaggiare finalmente trova uno che lo prende sul serio gli insegna i segreti sono cose bellissime fili di racconti dentro il mare dell'oblio capito queste sono le cose preziose si ci offre la possibilità credo anche di trovare una sponda nella professione psicoanalitica psicologica rispetto al concetto della priorità della trasmissione orale parlo soprattutto alle colleghe e ai colleghi che sanno l'iter lunghissimo e complessissimo della formazione analitica e del paradosso del caso clinico cioè quanto sia tremendamente difficile tradurre un'esperienza clinica in un caso scritto il patimento di chiunque abbia una formazione psicoterapeutica o psicoanalitica ecco ma il patimento sta proprio nel fatto che quello che accade di creativo nell'analisi è qualcosa di intrasferibile nel momento in cui noi cerchiamo di operazionalizzare di concettualizzare di generalizzare ciò che accade nel lavoro psicologico è come se noi mancassimo la promessa del lavoro psicologico c'è un famosissimo caso di famosissimo almeno per chi insomma legge studia Jung di una sua paziente che per tantissimi anni tenne un diario clinico nel suo lavoro analitico con Jung quando Jung venne a conoscenza di questo lavoro che lei in segreto stava facendo si infuriò lesse alcune pagine e disse ma non è possibile che io dica delle cose così sciocche e lei bruciò questo diario che si perse per sempre nella storia ecco mi viene in mente anche che in questi tre anni di webinar che abbiamo organizzato come ordine con le scuole in psicoterapia piemontesi sulla clinica e il digitale psiche e soma clinica e creatività ecco quello che mi rimane di più dei tanti seminari ascoltati è l'aspetto aneddotico ovvero quando la collega e il collega raccontava di un caso specifico unico peculiare al di là della teoria e penso che il tuo saggio per vie traverse ci porta di nuovo a confrontarci con questo paradosso io mi confronto con questa cosa sia come proprio da un punto di vista anche del fatto che la critica è un'altra branca come la psicoanalisi in cui questo problema è sempre ma poi questo problema poi gli sale a Platone perché le dottrine non scritte cioè io sarei più ottimista nel senso che dalla mia esperienza ho capito io sono proprio stato segnato culturalmente da una cosa che non riguarda poi proprio la mia che è un grande storico dell'arte che è Roberto Longhi che ha basato tutto il suo lavoro su un'idea che è quella dell'equivalente verbale allora come tu dici del rapporto analitico dici come io creo e Longhi nella vita è riuscito a fare delle cose che per esempio quando lui descrive come irrompe la luce nella vocazione di San Matteo di Caravaggio che per lui è il quadro in cui Caravaggio diventa adulto e beh poi lui erano in quei tempi si mettevano delle riproduzioni in bianco è chiaro che se te lo vai a vedere vince il quadro però per esempio già quell'equivalente verbale vince sulla riproduzione cioè c'è più colore in quelle parole che cioè l'edizione non so chi è un classico viene ripubblicato tu lo vedi ci sono riproduzioni infatti non li faceva in bianco e nero molto sobrie perché lui sapeva e questo è un lavoro che è talmente affascinante che ti porta per esempio a studiare scrittori del genere cioè scrittori in cui poi alla fine il modello dell'esperienza è completamente bruciato perché certo uno deve sapere una cosa che quando lo fa non trasferisce per questo è importante la formula dell'equivalente è un equivalente perché noi invece speriamo di una cosa assurda di spingere delle cose della vita come gli animali dell'arca di Noè nell'arca di Noè dicendo se ne appare un poco invece bisogna essere radicali cioè dire la scrittura è completamente finta rispetto al suo oggetto è un artificio e allora se tu lavori su questa consapevolezza poi Longhi non è un esteta un critico non avrà mai nemmeno pensato c'era da attribuire Caravaggi era il suo talento naturale però se ci vuoi tirare fuori un'idea di questi grandi ma sono tantissimi mi interessano molto gli storici dell'arte perché quello è quasi impossibile cioè veramente se tu cavi fuori un senso perché una cosa figurativa è una visione simultanea e la lingua invece è consecutiva ma ti dirò anche la maniera in cui senza ricorrere a pentagrammi nemmeno a quell'evocazione là che ne so quel libro meraviglioso che si intitola l'ala del turbino intelligente Glenn Gould ti spiega un po' le ragioni del suo gusto ti spiega delle cose su Bach e quelle sono cose straordinarie oh vabbè vedi quando tu dici ah va bene però io me la posso inventare allora c'è la Proust si inventa Vintay la petite phrase eccetera poi tutti vanno a vedere qual era nella realtà però gioca con un po' di vantaggio capito che se tu parti dall'invenzione tutti i contenuti di quell'invenzione invece la realtà ha la sua resistenza ma quella resistenza produce un valore estetico straordinario cioè tu mi fai esempio dei casi clinici che è un esempio che è un'altra cosa che io adoro come la critica d'arte perché la resistenza del mezzo produce straordinari effetti quando noi sbagliamo è nell'idea di magari evocare qualcosa attraverso il documento attraverso la documentazione fotografica cioè vogliamo incrementare la verità con la prova invece la verità è diversa la verità risiede nell'autosufficienza di quella cioè quando una persona ti faccio esempio di longhi ma ti potrei fare tantissimi altri molti campi dello scivio quando una persona lavora dicendo il linguaggio non è quello che rappresa cioè non è una formazione arbitra e quindi nella piena coscienza della falsità di quello che è perché non è quello non ci sono pezzi della realtà che possono essere riflessi dalla lingua allora tu costruisci invece qualche cosa di prodigioso perché non è un gioco sterile ti dici esiste il Caravaggio basta che sia conservato in una chiesa che bisogno ha no ti spiega il senso lo restituisce al suo divenire che è il destino è una cosa noi non possiamo avere solo pazienti infatti ci sono i casi clinici perché i casi clinici sono andati oltre la cura hanno stabilito se non c'erano quelli di Freud nessuno di voi si sarebbe orientato immagino io parlo da profano però sono cose evidentemente Freud o anche per esempio Jung che poi faceva tutto alla sua maniera in fondo ha fatto quei libri il simbolo di trasformazione psicologia e alchimia che sono due casi clinici impazziti come dire ma non c'è il paziente questo è interessante però in uno era Paul fa quello che tu stai suggerendo sì erano gente che lui non aveva mai magari incontrato sì o solamente scritto per lettera pensa quante cose sono cioè è straordinariamente creativo io credo che questi grandi psicologi ma un altro grandissimo è Vince Wanger lui ne ha scritti alcuni quello di Susanne Urban è un grande romanziere e io credo che loro abbiano agito e la loro efficacia sia proprio nell'essersi detti non esiste una verità di rispecchiamento esiste una verità di equivalenza esiste una verità nel fatto che questo racconto questo meccanismo verbale è l'analogo della cosa la cosa finisce lì nel rapporto si presume proficuo tra il terapeuta e il paziente però quell'altro è una cosa che bisogna saperlo fare cioè in qualche maniera loro sono dei grandi scrittori non perché scrivono bene perché pure gli asini sono capaci di scrivere bene ma perché hanno capito come funziona la scrittura non hanno capito come lo capiva Proust come lo capisce Joyce senza andare a fare il loro lavoro però lo hanno fatto intuendo o consapevole io non lo so questo non so quanto era il loro grado di consapevolezza letteraria anche perché generalmente come critici letterari lasciano per esempio i due grandi maestri della psicoanalisi lasciano desiderare come sappiamo non è che il loro sapere esplicito sia molto il saggio di Jung su Joyce è quacervo di cose incomprensibili non ha senso proprio il confronto Joyce è proprio però invece uno che scrive psicologia e alchimia ha capito evidentemente da una necessità di lavoro è nato qualcosa di grande il caso clinico è uno dei grandi generi letterari moderni quando era ancora molto giovane i Jukariuk sognava spesso degli strani esseri che al risveglio lasciavano tracce molto vivide nella memoria quando i membri della tribù si convincono che questi sogni sono l'autentica prova della sua vocazione lo affidano a uno sciamano più vecchio che lo conduce in slitta è la regola universale dei riti di iniziazione lontano dall'insediamento e lo lascia lì senza cibo né pelli per coprirsi dopo avergli costruito un minuscolo iglu è lì che i Jukariuk affrontando condizioni di fame e di freddo talmente proibitive che ogni tanto moriva un po' concentra tutti i suoi pensieri e il magro residuo delle sue energie vitali sul grande spirito e sullo spirito ausiliario che dovrebbe scendere a soccorrerlo solo alla fine del digiuno in effetti gli appare in sogno una figura di donna che si libera sopra di lui e da quel momento rimarrà il suo spirito guida ma i digiuni e le altre privazioni vanno proseguiti ben oltre i termini dell'iniziazione in senso stretto perché più sono grandi le sofferenze dello sciamano più egli è in grado di penetrare nel mondo invisibile a beneficio dei suoi simili in realtà come spiega Iju Karuk a Rasmussen l'apprendistato non finisce mai dipende dalla persona da quanto vuole sapere da quanto vuole imparare come Castaneda anche Rasmussen nato in Groenlandia intuisce che la storia di cui è stato protagonista come dicevi è stata in realtà una vera e propria iniziazione una percezione diversa della vita raggiunta attraverso prove eccezionali e l'incontro con una visione del mondo inaudita e più completa sarebbe ridondante sicuramente richiamare qui i numerosi studi che si sono occupati nelle corrispondenze tra processo analitico lavoro psicologico e gli antichi riti iniziatici mi permetto rapidamente di citare Mircea Eliade che tu stesso richiami a fine libro il quale era convinto che il paziente è invitato a scendere nel profondo di se stesso a far rivivere il suo passato ad affrontare nuovamente i suoi traumi e questa operazione pericolosa formalmente rassomiglia alla discesa iniziatica nell'inferno fra le larve e i combattimenti con i mostri proprio come l'iniziato doveva uscire vittorioso da queste prove morire e risuscitare l'analizzato oggi deve affrontare il proprio inconscio per trovare salvezza e integrità psichica ecco il passaggio che Elettra Malabi ci ha appena letto se vale questo paragone ci riporta a un tema che è emerso in maniera importante anche nel nostro precedente incontro ovvero lo strettissimo rapporto che sembra esserci tra creatività nel senso di autogenerazione autocreazione e la sofferenza in un'intervista rilasciata qualche anno fa alla stampa il nostro illustre collega torinese Augusto Romano diceva che la psicoanalisi è fuori moda perché legittima ancora la sofferenza ci potresti spiegare il ruolo secondo te del dolore fisico della prostrazione della sofferenza nel processo iniziatico a cosa serve? nel processo iniziatico appunto dobbiamo sempre capire noi abbiamo tantissime testimonianze prodotte appunto diciamo in una sia dagli storici delle religioni che dagli etnologi tutte quelle scienze sorelle che hanno studiato questa cosa proprio com'è e studiare com'è è importantissimo se no non la riconosci Nicola Bouvier nel libro sullo Sri Lanka quindi non riconosci come si è trasformata le società arcaiche ormai sono quasi estinte ce ne sono un po' in Amazona ma insomma la condizione la condizione dell'allontanamento dal villaggio dalla sfera delle madri non è sufficiente alla seconda nascita è necessario anche viene messa in scena una morte sono diversissime dipende dai luoghi quelli di Ugarchuk lì che abbiamo appena sentito andavano fuori dal villaggio degli iglo facevano un iglo a parte quindi sono condizioni di isolamento spesso seppellimento oppure magari privazione nel rapporto della madre terra perché ce ne sono alcuni in cui stanno sugli alberi sono tutta una costellazione di simboli della morte che possono dice Eliade mi sembra di citare abbastanza letteralmente convivere col fatto che alcuni di questi simboli tipo le buche possono anche essere simbolo simultaneo di morte e di rinascita quindi diventare anche una specie di utero da dove si riemerge ma appunto si riemerge nuovi quindi dal punto di vista del dolore fisico certo me lo spiego molto bene cioè proprio è la conseguenza dell'allontanamento dal villaggio perché e quindi magari in alcune civiltà questo coincide con tatuaggi scarificazioni e e quant'altro certo poi bisogna vedere tutte queste cose hanno un loro corrispettivo simbolico moderno ecco appunto nessuno può affrontare il ciguri senza prima essere stato toccato dalla spada di questa potente autorità religiosa perché il rito del peyote nella sua essenza è un rito d'annientamento un inoltrarsi nelle tenebre della malattia e della morte per riemergere una nuova luce e così racconta Artò una domenica mattina con il tocco della sua spada in un punto fra la milza e il cuore il vecchio il vecchio capo indio mi aprì la coscienza il colpo non è affatto cruento e produce solo una minuscola goccia di sangue ma tanto basta non provai alcun dolore ma ebbe effettivamente l'impressione di risvegliarmi a qualcosa per cui fino a quel momento era un atto male e orientato dalla parte sbagliata e mi sentì colmato di una luce che non avevo mai posseduto il tocco di spada insomma ripara una mancanza originaria dello straniero e orientandolo lo ricolloca nel mondo questo illimitato non si raggiunge se non dopo aver attraversato una condizione di angoscia e lacerazione ma arriva finalmente il momento in cui ci si sente come rivoltati e riversati dall'altra parte delle cose forse è più giusto dire che si viene restituiti all'altra parte mentre il mondo come lo si è sempre conosciuto diventa incomprensibile e all'apice del cammino iniziatico sospinti dalla forza terribile del ciguri alla prigionia che consiste nell'identificarsi totalmente con se stessi subentra la consapevolezza di appartenere all'infinito tutto questo avviene in una solitudine totale non si tratta come nelle tradizioni mistiche di un'anima che raggiunge il suo creatore ma di un individuo che libero dai fantasmi che affliggono la coscienza malata è finalmente in grado di creare da se stesso la propria umanità con il peyote scrive Artò in una nota l'uomo è solo e gratta disperatamente la musica del proprio scheletro senza padre madre famiglia amore dio o società incredibile questa immagine di Artò grattare la musica dal proprio scheletro ecco l'incontro di Artò con gli indios Tarahumara e il rito del peyote in Messico rappresentarono per il grande scrittore un valico come tu scrivi un passaggio avventuroso irreversibile verso un altrove che si configura come una rivelazione da un lato e come il ritrovamento di una origine di una fonte creativa ancora intatta di energie metafisiche capaci di vibrare fino alle soglie della morte ecco vorrei concludere questa mia intervista lasciando poi spazio alle domande del pubblico con la domanda che forse mi sta più a cuore di tutte è forse un tema un po' esoterico non so mi direi tu la questione del riorientamento quello che tu ci mostri nei riti di cui abbiamo testimonianze in questi diari di viaggio straordinari è a un certo punto una conversione per la quale si usa talora l'espressione del rindirizzarsi verso una fonte riorientarsi verso il mondo ecco io ti avrei ti avevo forse quasi promesso che non avrei fatto riferimento alla contemporaneità ma io mi chiedo ma che senso ha trovarci qui a riflettere di viaggi iniziatici nel momento in cui abbiamo delle famiglie in Ucraina che sono abbattute a corpi di mortaio che senso ha un riorientamento individuale quando il mondo va al contrario all'alba forse di una terza guerra mondiale ecco le ageografie indiane islamiche ci mostrano questo momento liminale per la soggettività penso per esempio a un racconto di cui si appropri anche Camilleri nel commissario Montalbano la sura 18 del Corano ambientata a Mazzara del Vallo e Montalbano sentendo alcune strofe di questa sura perde addirittura i sensi perché troppo potenti per lui la storia famosissima anche in sud Italia dei sette dormenti di Efeso questi ragazzi che per sfuggire da una persecuzione dell'imperatore Decio si rifugiano in una grotta vengono murati vivi e un sonno miracoloso li fa risvegliare secoli dopo al risveglio si manifestano e poi muoiono definitivamente in stato di santità ecco nella grotta loro rotolano in questo sonno miracoloso che i commentatori dicono che è una barca dell'abbandono divino loro rotolano verso sud verso la stella polare sud le nubi di Magellano ecco che senso ha il riorientamento il guardare il mondo da un punto di vista diverso in un momento secondo te in cui il mondo si mostra in tutta la sua brutalità quantomeno a noi occidentali ma questo sono forse la cosa di cui forse l'argomento che tu ti premeva vi hai detto ed è una cosa forse mi trovi più preparato nel senso però ecco appunto qui adesso il libro poteva il mio libro pur nella sua modestia intellettuale poteva avere dei punti di riferimento precisi in grandi scrittori e cioè è più un'opinione individuale che che mi chiede io proprio credo proprio fortemente a a quel se no non ha valore niente non aveva valore niente ma non è possibile questo lo stesso fatto che siamo qui oggi è proprio che te ti devi orientare sai come come il famoso aneddoto cinese che c'è quel cinese in una fila di persone che vanno per essere impiccate durante la una guerra la famosa guerra dei boxer e lui legge legge un testo taoista e il soldato inglese gli dice ma che legge a fare cioè del prossimo sei tu e lui gli risponde in ogni rigoletto c'è profitto ed è tutto lì ha vinto lui altrimenti dovremmo confrontarci con delle cose inconmensurabili che cosa è bene che cosa è male che succede al mondo e quindi è quella cosa lì che noi abbiamo è dato che trovare la propria stella vuol dire costantemente riorientarsi non è lei che ti si mette davanti sei tu che sbandi sempre e la devi e la devi cercare forse questo è il senso dell'aneddoto bellissimo che che hai che ci hai raccontato e quindi io ho una convinzione totale in questa cosa qui anche perché bisogna evitare degli stadi a mio parere spirituali intermedi no? che dipendono dal fatto che siamo molto vittime dell'informazione no? cioè da una parte c'è quello che possiamo fare e a te ti è dato di fare una cosa bene non è colpa tua il mondo tu devi fare quella cosa bene se no diventa colpa tua e dall'altro c'è il mondo nella sua brutalità eccetera in mezzo c'è l'opinione vana che noi ci facciamo quello non serve a niente questa è la cosa che noi spesso tendiamo a confondere per esperienza io ti posso dire come fronteggi questa io sto facendo dei lavori che riguardano delle cose molto molto particolari perché sono la mia vita sto facendo un lavoro su un maestro della pittura dell'arte contemporanea che si chiama Luigi Ontani e il suo rapporto con l'arte etrusca quindi andiamo a vedere dei piccoli musei posti nella campagna romana dice come mentre chi è io ho la sensazione che devo farlo benissimo quella cosa lì come come il cinese se me lo chiedi a me proprio è una sensazione fortissima fino a che te lo fanno interrompere perché allora sei tu diventato quello di turno è chiaro allora però a quel punto tu sei non non ci sei stato a pensare perché non hai perso il tuo orientamento cioè ti sei costantemente riorientato cioè è come se tu devi dire al mondo guarda che seguire la mia stella è già difficile io non posso guardare ogni cazzata che commini e poi ricercarla scusate il termine no è essere molto è molto difficile oggi perché noi siamo costantemente immersi in un flusso di informazioni che ci sollecitano dal punto di vista morale ma è una finta morale una finta sollecitazione non riguarda niente riguarda pezzi di noi del tutto scadenti che stanno lì a assorbire informazioni non hanno noi siamo persone che si sveglia la mattina fanno del bene al prossimo fanno degli atti d'amore studiano curano i pazienti come è il caso se il mondo avesse qualcosa che ti costringe a dubitare di quello che fai vuol dire che quello che fai non andava bene anche se il mondo non ti sollecitava capito questo è la la morale che dobbiamo che non è la morale capito una volta si diceva la torre d'avorio non è quello la torre d'avorio va curata esiste pure quella se sei nato lì se quello è il tuo destino non hai una versione più morale di quella è proprio sarebbe bello no? sarebbe bello invece partecipare all'esistente quindi tutti noi in una parte diciamo vorrei essere quello che ha inventato il vaccino contro il covid vorrei essere quello che ha fatto la pace invece non siamo niente questa è la cosa vera quindi questa stella impone costantemente attenzione a dove sta perché noi siamo soggetti a forze di dispersione distrazione mortifere questa è la la realtà io vedo nella distrazione l'immagine quotidiana della morte e quindi questa è la mia idea insomma ma mi dispiace mi hai sollecitato perché ero a riparo di parlare di Artaud e di grandi spiriti ecco questo è quello che penso io proprio della modestia della mia esperienza penso che tu ci abbia fatto un regalo immenso con questa risposta su cui potremmo meditare giorni settimane mesi anni grazie a tutti Grazie a tutti.